lunedì della quarta settimana di pasqua dal vangelo secondo giovanni in quel tempo disse gesù in verità in verità io vi dico chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta ma vi sale da un'altra parte è un ladro e un brigante chi invece entra dalla porta è il pastore delle pecore il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce egli chiama le sue pecore ciascuna per nome e le conduce fuori e quando ha spinto fuori tutte le sue pecore cammina davanti a esse e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce un estraneo invece non lo seguiranno ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei gesù disse loro questa similitudine ma essi non capirono di che cosa parlava loro allora gesù disse loro di nuovo in verità in verità io vi dico io sono la porta delle pecore tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti ma le pecore non li hanno ascoltati io sono la porta se uno entra attraverso di me sarà salvato entrerà e uscirà e troverà pascolo il ladro non viene se non per rubare uccidere e distruggere io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza parola del signore